Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Guardia di finanza, Roma, confiscati beni per oltre 2 milioni di euro a pregiudicato di Albano Laziale. Passa definitivamente allo Stato il patrimonio del valore stimato di oltre 2 milioni di euro, riconducibile a Massimiliano Perciballi, classe 1968, pregiudicato per usura e traffico di stupefacenti. La Corte d'Appello di Roma ha infatti confermato la confisca di primo grado, emessa a novembre del 2018, di 15 unità immobiliari situate a nord di Roma e nella zona dei Castelli Romani, tra cui una prestigiosa villa ad Albano Laziale, già sequestrate dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel 2017 su disposizione della sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale Capitolino. Oltre alla confisca, la Corte d'Appello ha disposto nei confronti del proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 5 anni. Termina così il nostro momento di informazione, chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive. di Grazie a tutti.